Ma che fine hanno fatto le altcoin? Tutta l'attenzione è puntata chiaramente su bitcoin, ma in questo video andiamo a vedere insieme proprio come se la passano ste altcoin. Ovviamente, come ho detto più volte, finché bitcoin non va a toccare nuovi massimi, molto probabilmente le altcoin rimarranno stagnanti o addirittura morenti. Tutto insomma dipende adesso dal prezzo del king, dal prezzo di bitcoin. E a proposito di prezzo di bitcoin, Pionex ha lanciato una sfida molto carina. Chi indovinerà il prezzo di bitcoin di venerdì 4 ottobre alle ore 12, chi si avvicinerà di più chiaramente al prezzo perché indovinarlo è praticamente impossibile, riceverà un bonus di 100 USDT utilizzabili per avviare un trading bot futures. La partecipazione è gratuita, basta semplicemente compilare il form che trovi qua sotto, te lo mostro, molto semplice. Qui c'è anche la spiegazione di tutto. Se ancora non avessi un account Pionex, semplicemente da qua puoi registrarti gratis, creare il tuo account e puoi compilare questo form semplicissimo. Il bonus che si riceverà sarà un bonus non prelevabile, un bonus utilizzabile per avviare abbiamo detto un trading bot, futures, di qualsiasi tipo, con qualsiasi leva. La funzione del bonus sarà quella di coprire al 100% le tue perdite e tutti i profitti che genererà quel bot li potrai prelevare chiaramente, quindi sono tuoi. Qua sotto ti lascio il link per partecipare a questa sfida. Partiamo prima di tutto con l'analisi di Ethereum, perché se vogliamo parlare di altcoin dobbiamo parlare prima di tutto di Ethereum. In particolare parliamo dell'ETF di Ethereum. Un flop per tantissime persone, ci si aspettava tutti Ethereum to the moon, in realtà Ethereum sta facendo abbastanza schifo in questo periodo. E quindi si legge per esempio in questo articolo Ethereum il fallimento di BlackRock che però vale già un miliardo. Quindi andiamo a capire ragazzi, andiamo a contestualizzare ciò che vediamo, perché se non stiamo vedendo il prezzo di Ethereum dove vorremmo noi, non significa che l'ETF sia stato un fallimento. Anzi, andiamo a leggere un pochino di cose. La scorsa settimana è stata superata la quota di un miliardo in controvalore Ethereum all'interno dell'ETF del primo gruppo mondiale di gestione di capitali, quindi appunto BlackRock. Un numero estremamente importante che è arrivato in soli due mesi e che rende, come viene ricordato da Nate Geraci su X, questo ETF è già entrato nella top 20% dei più di 3.700 ETF quotati negli USA. Quindi stiamo parlando di una crescita enorme in un paio di mesi. L'ETF di Ethereum ha veramente scalato le classifiche. E non ci si aspettava tutto questo, perché noi chiaramente guardiamo l'ETF di Bitcoin che è stato veramente potente, però non possiamo paragonare Bitcoin ed Ethereum. Anzi, si pensava che Ethereum non avrebbe fatto tutto questo scalpore. E in effetti però, come possiamo vedere, i movimenti ci sono stati. Quindi questa è un'ottima notizia per l'ETF di Ethereum e il fatto che sia estremamente scontato ora lo rende molto molto interessante come asset. Cosa guardare allora per questa benedetta al season? I fattori sono principalmente due. Andiamo a dare un'occhiata al mercato altcoin in generale. Sappiamo che la dominance è importante, ma sappiamo anche che finché Bitcoin non farà dei buoni movimenti, che vedremo tra poco, è estremamente difficile che le altcoin seguano. Vediamo attualmente la capitalizzazione di mercato, la dominance di Bitcoin è al 56%, quindi molto elevata. Ethereum siamo a un 13,77 e poi via via a scendere tutte le altre delle varie altcoin. Per avere una buona idea di quando potrebbe iniziare un altseason, dobbiamo e abbiamo dovuto per forza tenere d'occhio Ethereum come si sta muovendo. Ethereum lato istituzionale, quindi gli ETF, vediamo anche Ethereum in confronto di Bitcoin. Io qua su Payonex ho proprio creato un bot che mira ad accumularmi Bitcoin, giocando però su questa coppia Ethereum contro Bitcoin, che è proprio il grafico che andremo a vedere tra poco, e che punta a mettermi da parte Bitcoin quando ci sarà appunto la famosa altseason. Come funziona l'altseason? In brevissimo immagina Bitcoin che sale, a un certo punto inizia a stagnare un pochino, ma è salito abbastanza da far correre le altcoin, quindi ETH tende a sovraperformare Bitcoin ed è in questa fase che questo bot dà il meglio. Io tra l'altro è anche copiabile, io qua sotto ti lascio il link se vuoi copiarlo puoi copiarlo, puoi utilizzare anche quel famoso bonus se indovinerai il prezzo di Bitcoin di venerdì. Poi salito ETH iniziano a sparare anche tutte le altre altcoin, quindi prima quelle altamente capitalizzate, Solana, Cardano e così via, e poi a discesa tutte le altre sfacelo di shitcoin possibili e immaginabili. Questo è per avere un'idea generale. Adesso come vediamo è in perdita questo bot, diamo proprio un'occhiata qua, eccolo qui. Al grafico ETH BTC è inguardabile a mio avviso, veramente messo malissimo, il che rende ETH molto interessante. Questo è il grafico settimanale di ETH contro Bitcoin, cioè come possiamo vedere è un costante scendere. C'è anche da dire che possiamo aspettarci proprio in questa fase, quindi a ridosso di questo livello, se come ci aspettiamo Bitcoin pomperà ottobre-novembre, probabilmente ETH seguirà e quindi su questo livello è possibile vedere un rimbalzo poi verso il livello successivo, quindi vedere una roba del genere. Vedere una roba del genere è molto positivo per noi, in questo caso è molto positivo per il bot che abbiamo in copy trading. Entrare quindi in questa fase può essere determinante per andare ad accumulare in realtà poi altri Bitcoin grazie al movimento di ETH, la ripresa di ETH. Questo se si vuole speculare ETH Bitcoin. Se si vuole invece semplicemente accumulare Ethereum, beh può essere sicuramente un buon momento per farlo questo. Diamo prima un'occhiata globale del mercato, quindi facciamoci un giro su CoinMarketCap per capire come siamo messi. Al di là di Bitcoin, quindi prendiamo per esempio Ethereum che abbiamo visto adesso, siamo da inizio anno ad oggi a un più 8,27%, Bitcoin siamo a un più 45,49%, quindi molto buono comunque Ethereum rispetto inizio anno. Non rispetto all'all time I, siamo ancora sotto di un 50%, quindi qua c'è un'ottima opportunità per fare un per due nel caso in cui si andasse a recuperare ovviamente terreno. BNB, BNB se l'è cavata estremamente bene, siamo a un più 77% da inizio anno ma ancora a un meno 23%. Solana se l'è cavata molto bene a questo giro, siamo a un più 45% ma ancora a un meno 43% rispetto agli all time I, quindi anche qui potenzialmente ci potrebbe essere un bel per due fattibile. Poi XRP, abbiate pazienza, è in negativo, siamo a meno 84%, io non sono un fan di XRP, non sono uno di quelli nostalgici di XRP agli albori di qualche ciclo fa, quando erano addirittura in terza posizione. Sono entrate tantissime altre cose, secondo me, molto più funzionali e utili di XRP, quindi XRP non la guardo. Dogecoin, ragazzi, lasciamo perdere le meme, Tonecoin, Tonecoin è a un più 136% da inizio anno, un meno 33% dagli all time I, quindi anche qui ci sono delle buone possibilità. Tron ha sorpreso un po' tutti facendo un più 42%, qua siamo a un meno 49% ancora rispetto agli all time I, quindi anche qua un potenziale per due. Cardano, idem, siamo veramente sotto, sottissimo, io qua ho fatto dei buoni profitti su Cardano, ma attualmente all'inizio anno fa schifo, siamo a meno 88%, quindi qua anche c'è un quasi, oserei dire, un per tre se recuperasse gli all time I. Ricordiamoci che recuperare gli all time I non è detto, non è che per forza devono recuperare gli all time I. Negli ultimi 30 giorni, quindi settembre bene o male sono andate benino tutte, sono state tutte relativamente buone. Vediamo che con l'ultimo calo di Bitcoin, cosa succede alle altcoin? ovviamente precipitano, ecco perché dico dobbiamo guardare Bitcoin. Come possiamo vedere ha fatto questo inciampo dai 66 quasi che aveva raggiunto a 61k, quindi fai un 6k, 5, 6k di calo più o meno, non è tantissimo. Questo basta però lanciare via le cripto. La mia domanda è, se Bitcoin mi ritornasse su questo livello qua, quindi 58k sotto i 60k, probabilmente le altcoin sarebbero sottoterra. Cosa vorrei vedere io? Cosa vorrei vedere io? Allora andiamo a prendere una total tree, che cos'è? È la total market cap escluso Bitcoin ed ETH, questo è per vedere le altcoin in generale. Vediamo che se la stanno passando bene, se io vado a fare questo, per vedere un alt season, dovremmo vedere uno, un recupero di quest'area, un recupero almeno di questo livello qui, quindi rottura di tra i 600 e i 725 e poi vedere un rialzo e un ritorno in quest'area. Quindi questa, tutta quest'area qua, che è poi quella che va tra i 600 e gli 800 quasi, billions, è quello che noi dobbiamo vedere per un possibile recupero e un possibile appunto slancio verso quella che è un alt season. Lì, ok, possiamo parlare di alt season. Che significa, tradotto, guarda come si muove Bitcoin, guarda bene questo grafico, guarda bene Bitcoin, per questo dico seguiamo Bitcoin, finché Bitcoin è qui e non ci rompe uno i 68k. Quindi ora si fa il suo rimbalzo, io mi aspetto sia più profondo, ma non è detto, si fa il suo rimbalzo, torna in quest'area. Se siamo graziati da Uptober, ottobre-novembre, secondo me saranno mesi up, non perché è sempre stato così, ma perché ci sono le elezioni di mezzo, ci sono un po' di eventi, taglio di tassi, tutta una serie di cose che mi fanno pensare che si voglia tenere su un po' il mercato. Se così fosse, allora una rottura di quest'area qui, un ricolpire i massimi, che va tra i 70 e 72, 73k, e spingere come propellente in quest'area, sugli 80k, è qui che secondo me si innescherebbe una potenziale alt-season. Perché? Perché finché Bitcoin è qua non c'è assolutamente interesse sul mercato cripto. Se tu vai a cercarti l'interesse in termini di ricerca come Bitcoin, cripto, altcoin, sono ai minimi storici o comunque molto vicini. Vedere un Bitcoin che pompa, che mi sale su verso gli 80k, quindi che fa un rally secco, superando di tanto, ma di tanto, perché se qua mi fa, mi ha superato il massimo precedente, che era, che ne so, fai 70k, me lo supera a 73k, questo non genera fomo. Ma vedere Bitcoin che va a 80k, fa svegliare tutti i 100k, oddio, arriviamo a 100k, arriviamo a 100k, arriviamo a 100k, tutta sta gente qui si sveglia e inizia a comprare come forse è nato intorno a queste aree qui. Quindi cosa succede? Succede che il mercato va in fomo. E se il mercato va in fomo, 80-90k come range mio personale su Bitcoin, in quest'area è molto probabile che le altcoin spareranno in su, performeranno e andranno a fare proprio quello che ci siamo detti 30 secondi fa, cioè tornare ai loro massimi, quindi andare a colpire quest'area qui. Ottobre-Novembre mi aspetto dei mesi up, non è detto che saranno dei mesi up, nessuno ha la sfera di cristallo, io non ho la sfera di cristallo, di conseguenza questo è come mi sto muovendo io, come sto leggendo il mercato in questo momento. Ethereum non è stato per niente un flop l'ETF, anzi siamo molto fortunati ad avere un Ethereum così basso in questo momento, secondo me, in ottica poi di futuro, chiaramente con una visione più a lungo termine. E potremmo avere in questo momento, in questi giorni, in questa settimana, probabilmente un'ottima opportunità per andare a riposizionare qualcosina su Bitcoin, per riposizionare qualcosina sulle altcoin in vista di un potenziale uptober. Ci sarà? Non ci sarà? Ancora una volta, fai le tue analisi e valuta in base al tuo capitale, in base al tuo profilo di rischio, se e come posizionarti sul mercato. Per oggi è tutto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sui mercati, ti lascio il link per partecipare alla sfida di Pionex e anche il link dei trading bot se vuoi utilizzarli. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.